Assessore Via, le due deleghe sono due deleghe importanti e interessanti, perché noi diciamo sempre che la nostra città deve ripartire dalla cultura, no? E lei di cultura ne ha tanta, anche perché ha fatto tantissime cose in precedenza in questa città. Ecco, questo assessorato che lei dirigerà è un assessorato che può essere la speranza di una ripresa? Ma questo assolutamente, la cultura è il cervello di un organismo, quindi sta molto spesso nascosta, ma è il motore, è il motore di tutto. E in questo io credo fermamente, credo che anzi la cultura possa essere veramente il punto di forza per una ripresa, una rinascita di questa nostra città. Per quanto riguarda l'istruzione, ha già in mente qualcosa? Sto cercando di orientarmi in una situazione che è complessa, quindi ci sto lavorando, ci sto studiando, sto incontrando anche il personale che se ne occupa, che di istruzione si occupa quotidianamente. Io vengo dal mondo della scuola, quindi so cosa significa anche lavorare nella scuola, cosa che credo sia anche questo un punto di forza, perché spesso fuori dalle mura della scuola non si ha idea di che cosa significhi il lavoro scolastico, la complessità, la delicatezza, la qualità e la responsabilità che ogni giorno tanti insegnanti, tanti dirigenti, tanto personale e anche amministrativo silenziosamente si carica sulle spalle. Lei ha ragione e soprattutto dobbiamo dire che all'attenzione di questo comune ci sono le scuole elementari e le scuole medie, quindi che sono le scuole fondamentali per la formazione dei giovani. Certo, sono la base della formazione, tra l'altro di quello che saranno le generazioni di domani, quindi una grande, grande attenzione e grande cura e siamo, come assessorato, come amministrazione, noi siamo al fianco di chi lavora tutti i giorni, tra l'altro su una fascia di età estremamente delicata e anche diffusa nel territorio, cioè la cui diffusione è estremamente capillare nel territorio. Quindi incontrerà i dirigenti delle scuole? Senz'altro, questa sarà una cosa a cui immediatamente metterò, tra l'altro sono dirigenti che hanno a cuore la crescita di questa città e questo lo vivono tutti i giorni sulla propria pelle e di questo dobbiamo dare anche loro atto.